Donald Trump replica le critiche di Pechino dopo la sua telefonata con la presidente di Taiwan. La Cina, scrive Trump, ci ha mai chiesto se andava bene svalutare la loro valuta, tassare i nostri prodotti che entrano nel loro paese o costruire un sistema militare nel mezzo del mar della Cina del Sud? Non penso proprio. Alla conversazione telefonica tra il presidente eletto degli USA e la sua omologa di Taiwan, la Cina ha reagito con durezza avanzando una protesta per i canali diplomatici. Il principio di una sola Cina è generalmente riconosciuto dalla comunità internazionale, afferma Pechino, che invita Washington a trattare adeguatamente con cautela la questione di Taiwan per prevenire scossoni inutili alle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Intanto, secondo quanto denunciano fonti filippine, nelle acque del mare cinese meridionale sarebbe stata intensificata la presenza di navi militari cinesi. Grazie.